Sono in arrivo le festività natalizie. Se affrontassimo con le misure proprie delle aree gialle questo periodo, sarebbe pressoché inevitabile una nuova impennata della curva di contagio. E per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni, le limitiamo al periodo al 21 dicembre e al 6 gennaio. La strada per uscire dalla pandemia è infatti ancora lunga. Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata, che potrebbe arrivare già in gennaio, potrebbe essere non meno violenta della prima e della seconda. Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Naturalmente partiremo nel nostro dibattito di oggi dalla conferenza stampa ieri sera di Giuseppe Conte sulle nuove chiusure e il Natale, ma che in realtà ha dedicato, lo notano quasi tutti i commentatori oggi sui quotidiani, ha dedicato poco tempo alla illustrazione delle misure operative per le vacanze di Natale, a questa nuova stretta. E molto tempo invece a risposte, anche su richiesta naturalmente dei giornalisti, le domande sono andate tutte in quella direzione, che riguardavano complessivamente la situazione della maggioranza e poi la politica economica con la questione del recovery fund politica e del MES. Parleremo di questo, parleremo anche ancora dei vaccini, anche con uno sguardo alla geopolitica dei vaccini, parleremo del reddito di cittadinanza che sta mostrando molte crepe. Ma cominciamo naturalmente da Conte e soprattutto dalla presentazione dei nostri ospiti di oggi. Allora, bentornata Flavia Perina, giornalista, editorialista della stampa. Buongiorno, do il buongiorno e il benvenuto al direttore di Repubblica Maurizio Molinari. Bentornato direttore, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Do il buongiorno e il benvenuto a Dario Di Vico, firma del Corriere della Sera. Buongiorno. E naturalmente il bentornato a Domenico De Masi, sociologo, molto, come dire, esperto e anche sostenitore a lungo proprio del reddito di cittadinanza. Però l'argomento, buongiorno professor De Masi. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno e lo teniamo naturalmente per il prosieguo, perché vorrei partire subito con Maurizio Molinari da un commento su questa conferenza stampa, per ora, come dire, limitata alla questione del Natale, delle chiusure, di polemiche che comunque ancora ci sono, soprattutto su un punto, mi sembra di capire, cioè lo spostamento fra comuni che addirittura ha provocato una raccolta di firme contrarie di 25 parlamentari del Partito Democratico e poi anche la protesta delle regioni che si vede su vari giornali. Intanto hai visto una differenza di toni in questa conferenza stampa? Ieri è stata la giornata con più morti, 993 morti in un giorno, è veramente un dato agghiacciante. Noi non ci dobbiamo mai cedere alla tentazione di essere assofatti ai decessi. Si tratta di come se noi in un giorno avessimo visto cadere quattro aerei con tutti i passeggeri morti. Una giornata agghiacciante e una cornice terribile che ci ricorda quanto la pandemia sia ancora aggressiva e una minaccia collettiva per la sicurezza nazionale e tutti i nostri cittadini. In questa cornice il Presidente del Consiglio ha presentato agli italiani il rischio della terza ondata. In effetti ci sono altri paesi che sono già alle prese con la terza ondata. La Corea del Sud, l'Iran, l'Israele. Questo ci dice che il pericolo di fatto esiste. I vaccini sono in arrivo, lo stesso Presidente del Consiglio lo ha detto, ma in tempi lunghi per la terza ondata. Quindi servono contromisure in occasione delle feste di fine anno per evitare il ripetersi degli errori di ferro agosto. Io credo che nella rigidità delle misure che lui ha presentato, nelle limitazioni ai movimenti, alle abitudini sociali, anche se ci sono ovviamente alcune concessioni sul fronte dei ristoranti, ore di pranzo, però sostanzialmente a un Natale blindato ci sia l'ammissione degli errori che il Governo ha compiuto durante l'estate e che non vuole ripetere per evitare la terza ondata. Quindi un'ammissione implicita. Io ti ringrazio per aver richiamato questo numero di morti, di decessi di ieri, che è stato veramente impressionante perché appunto sono 993, qui chiedevo al Camera di inquadrare la vignetta che è su questo di LK, proprio pubblicata dal tuo giornale. Eccola qui, ma anche, eccola, quasi mille morti, taci un attimo, fammi sentire cosa possiamo fare a Natale, risponde l'altro personaggio. La metto insieme a una, su Corriere della Sera, a una notazione che fa Fabrizio Roncone, pochi minuti su questa conferenza stampa, pochi minuti a ora di cena, con me in ottimismo, dove poi si nota, e lo fanno anche, sto continuando idealmente con la rassegna stampa, lo faceva anche su Affington Post ieri, Alessandro De Angelis, vado da Di Vico, che in realtà nella conferenza stampa l'ammissione di errori fatti, ma anche il riferimento ai morti, in realtà non c'è stato, cioè è stata lasciata, diciamo, questo argomento, le vittime non sono stati menzionati ieri, non perché naturalmente era una conferenza stampa che teneva conto della drammaticità, però questa sottolineatura non c'è stata. Dario Di Vico? Sì, io l'ho trovata una prova di insensibilità, devo dire, non solo in termini appunto di tributo al prezzo che stiamo pagando, onerosissimo giorno per giorno, ma anche avrei voluto in termini di analisi, perché la questione che noi dobbiamo spiegare come mai c'è questa polarizzazione? Cioè scende l'indice di contagio, l'RT, secondo quanto ha spoilerato ieri il ministro Speranza, dovrebbe scendere oggi allo 0,98, ma come mai aumentano i decessi? E allora in termini analitici bisognerebbe spiegare, per esempio, le cose che oggi un po' ci sono sui giornali, il fatto che muoiono prevalentemente a casa o negli ospedali, meno nelle terapie intensive come si potrebbe pensare. Oggi c'è un'intervista di un primario di un ospedale milanese, il professor Centanni, al mio giornale, nel quale dice che siamo arrivati al 45% dei decessi di questa seconda ondata e ci aspetta un altro 55% e che modelli matematici avevano previsto che i decessi fossero 1.200. Adesso non voglio dare su dati allarmistici, dico che c'è materia abbondante perché in una conferenza stampa il primo ministro facesse, oltre che menzionasse la questione, facesse anche un'analisi di che cosa sta avvenendo in un elemento fondamentale della lotta contro il virus, perché siamo tutti felici di andare verso le zone gialle e in qualche maniera che il rapporto tra positivi e tamponi sia intorno al 10%, però è evidente che le cose che ha detto il professor Centanni ci preoccupano e la razza è una sola. Purtroppo, mentre dopo la prima ondata avevamo detto la seconda volta saremo più bravi nell'affrontare i malati, purtroppo sta venendo fuori che non abbiamo la cura, non abbiamo una cura credibile. Ora, ovviamente io non faccio colpa al primo ministro del fatto che la scienza non ha trovato una cura per i malati di Covid, dico solo che in una conferenza stampa che fa il punto su questo tema, insomma, ci sarebbe stata materia per riflettere quantomeno. Io credo che qualunque cosa avesse detto Conte ieri sera, una parte del paese avrebbe detto che era tutto sbagliato e una parte che andava tutto bene. Io noto soltanto un infantilismo diffuso che questa pandemia ha sottolineato e amplificato in modo quasi patologico. A me piacerebbe che una volta tanto assumessimo un comportamento un poco più nipponico, non so come dire. C'è una task force che lavora su questo. C'è un Presidente del Consiglio che mi pare, insomma, tutto sommato abbia dimostrato abbastanza equilibrio tra i dati che ha a disposizione lui e le possibilità che ha a lui di avere sotto mano la realtà della situazione. È quello che i giornalisti o noi commentatori diciamo. C'è un abisso. Che dati già dirigo? Che dati ho io in mano più di Conte? Se Conte è fatto così, un motivo ci sarà. Questo fatto di ritenere sempre i governanti dei cretini o degli sprovveduti a me pare veramente una cosa eccessiva. Ha fatto quello che probabilmente lui ha ritenuto giusto fare. Certo, se si vuole criticare, si critichi. La realtà è quella che è e quello è il Presidente del Consiglio. Sì, non credo che ci fosse una critica in senso di sprovvedutezza nelle analisi che si sono fatte, soltanto la constatazione. Tutti i giorni, tutti i giorni. Tutti i giorni c'è solo sprovvedutezza. Ognuno si sente il diritto di dire si sarebbe dovuto fare così, si sarebbe dovuto fare così, in questo è sbagliato, eccetera. A me sembra quasi ridicola la cosa. Vedo che sorride Maurizio Molinari rispetto a queste riflessioni, però diciamo che ci sarà pure la possibilità di esprimere qualche osservazione. Allora sentiamo, Flavia Perina, che cosa ne pensi questa conferenza stampa? Io faccio una notazione, però è una cosa certa. Anche le domande, a me è colpito anche questo, una conferenza stampa, non è un modo per criticare i colleghi assolutamente, però ha colpito che l'attenzione fosse più spostata su altro, anche da parte delle sollecitazioni, perché comunque era una conferenza stampa. Io penso che l'oggettiva fragilità del Governo in questo passaggio sia uno dei motivi che, alla base di un racconto così confuso sul virus, Conte si sta tenendo in equilibrio su un crinale molto difficile. Da un lato deve, diciamo, non indulgere al catastrofismo, suscitare un certo ottimismo, dire al Paese ce la stiamo facendo, il contagio cala, le cose stanno andando meglio, anche sul pressing delle regioni che vogliono assolutamente ritornare nella condizione di zona gialla, se non addirittura di un'immaginaria futura zona verde. Dall'altro lato deve prendere provvedimenti estremi perché la situazione è estremamente grave, ma in qualche modo non c'è, a mio giudizio, il coraggio politico di raccontarla fino in fondo. La mancata citazione dei quasi mille morti ieri in conferenza stampa è da un lato il desiderio di non voler portare cupezza nel Paese o magari uno spirito di resa e dall'altro poi ci sono provvedimenti commisurati a questa realtà perché questa realtà è un dato di fatto. È palese che il sistema sanitario italiano che per molti versi si è raccontato nelle due ultime settimane si sta rimettendo in moto, stiamo facendo, le terapie intensive si svuotano, siamo ritornati a fare i tracciamenti. Una parte di questa narrazione non corrisponde alla realtà. La realtà è quella di un indice di mortalità altissimo, di una curva dei contagi che cresce un po' meno ma continua a crescere e della prospettiva di una terza ondata che non è appunto una fantasia ma come ricordava il direttore Molinari si sta già verificando in numerosi Paesi. Però in qualche modo non si ha il coraggio di mettere gli italiani palesemente di fronte a questa realtà, di dire la situazione continua a essere molto grave e quindi un proseguo dei sacrifici è necessario. Ci si tiene in equilibrio tra l'ottimismo del vaccino che sta per arrivare, che arriva quasi domani, dopodomani, a gennaio saremo in gran parte vaccinati e invece la necessità di fare fronte a un'emergenza che non è cambiata molto rispetto a un mese fa o rispetto a un mese fa. Sì, comunque la questione della seconda ondata, se si fosse o no attrezzati a sufficienza per una seconda ondata che era prevista, questa comunque resta nel campo. Poi è chiaro che l'importante è che ci siano delle contromisure oggi e queste ci sono. Però volevo chiedere, partendo dalle osservazioni di De Masi a Molinari, se in una fase così drammatica è come se effettivamente non fosse legittimo esprimere anche delle critiche. De Masi dice che è criticatissimo il governo, non so come la vedi. Ma ha ragione Flavia Perina nel dire che il governo è in una fase di debolezza politica, la vicenda del MES lo descrive in maniera cristallina, i malumori nella maggioranza sono numerosi, le difficoltà di gestione dell'operazione dei vaccini è di fatto di fronte a tutti noi e adesso c'è un tentativo di evitare la terza ondata. Obiettivamente non è una situazione facile per il Presidente del Consiglio. Il compito dei mezzi di informazioni è descrivere quali sono le sfide per il governo affinché il governo faccia le decisioni migliori nell'interesse nazionale. È un po' questa una dinamica sana in una democrazia liberale. Io vorrei farvi sentire, visto che appunto una buona, forse più della metà della conferenza stampa è stata dedicata proprio a questa condizione di fragilità politica che ha la sua importanza perché non c'è soltanto il fronte delle regioni, ancora inquieti, oggi c'è Zaia, ieri c'era Fontana, oggi c'è Zaia su Corriere della Sera che dice nei piccoli centri, anziani da soli a casa, testo preconfezionato, non ci hanno ascoltato, dice a dispetto, non negando le riunioni, ma negando che queste riunioni abbiano portato diciamo dal suo punto di vista di Zaia un risultato particolare. Però proprio perché non c'è solo questo, ma c'è questa grande situazione di fragilità politica di Movimento 5 Stelle che si è spaccato per un pezzo ieri al Parlamento europeo con la fuoriuscita di quattro eurodeputati, forse il più noto è Corrao e poi le raccolte di firme qui e il pressing per cambiare alcuni ministri. Vi faccio sentire, mi piacerebbe commentare, il passaggio in cui Conte, molto stentore e molto esplicito in questo caso, dice che no, il rimpasto non va bene. Sentite. Per quanto riguarda il rimpasto, guardi, i partiti hanno dichiarato, le forze politiche hanno dichiarato che non sono interessate al rimpasto e questo fa loro onore. Perché fa onore? Perché io l'ho già detto, è una parola che io rabbrividisco solo a pronunciarla. Cosa significa rimpasto? È una vecchia liturgia della vecchia politica, non mi appartiene. Io mi preso, non ho qui prestato a questo incarico solo da due anni. Quindi non ho consuetudine con queste formule. Il discorso quindi qual è? È di un confronto politico che abbiamo avviato con tutte le forze. Questo sì, per rilanciare la nostra azione di governo. Poi, se qualche forza politica dovesse chiedermi delle valutazioni per quanto riguarda la composizione della squadra, io non mi sottraggo al confronto. Però io sono il capitano di una squadra che, se parliamo della prima ondata della pandemia, noi siamo stati così sopraffatti come primo Paese europeo, anzi occidentale, da questa ondata, come tutti assolutamente impreparati a tale emergenza. Noi abbiamo superato, abbiamo consenso tutto il Paese, abbiamo affrontato un grande impegno e determinazione. I miei ministri sono i migliori. Allora, Flavia Perina, con l'occhio di chi frequenta anche le crisi politiche da molto tempo, ti chiedo di valutare questa risposta, soprattutto gli effetti che può avere. Perché qui Conte sembra comunque dire, se volete il rimpasto, dare la responsabilità, consegnare la responsabilità di qualcosa che affronte proprio di una giornata come quella di ieri, dell'emergenza del Natale, insomma, la questione dei ministri forse... Sì, non poteva dire nulla di diverso, io immagino, in questa circostanza, in questo passaggio, in questa sede, con un pezzo di PD che si ribella alle misure che ha appena annunciato, un pezzo di 5 Stelle che sta preparando la battaglia sul MES per tra pochi giorni e il venir meno anche della sponda immaginabile, fino a qualche giorno fa, di Forza Italia, non poteva... lui deve ostentare una sicurezza, una forza, anche riguardo alla composizione del governo, che probabilmente in questo momento non c'è. Poi, di fatto, che cosa dice? Il rimpasto? Abbiate il coraggio di chiederlo. Perché tutti dite che non volete, certo. Tutti dite che non volete, se qualcuno lo vuole, abbia il coraggio di alzare la mano e di chiederlo, e si è anche già capito, nel caso che qualcuno lo chiedesse, quale sarà la linea di conto? E dire, siete affezionati ai riti della vecchia Repubblica, chi lo chiede è una persona che pensa alle poltrone, che in questo momento d'emergenza non fa il bene del Paese. Vado da De Masi, perché questo incrocia naturalmente una fase, il passaggio sul MES richiamato da Flavia Perina, il rimpasto, il MES, tutta questa fragilità, la fragilità politica che stiamo esaminando, perché comunque conta che ci sia forza politica quando si affronta una sfida come quella della pandemia. Come osservatore, persona che ha frequentato, che conosce il mondo dei 5 stelle, De Masi, che succede il 9 e che cosa vogliono dire questi smottamenti? C'è veramente un rischio, secondo lei? Io sono stato sempre attento alla vita di questo movimento, perché per un sociologo i movimenti sono un oggetto di studio molto interessante. Tutti i movimenti tendono a diventare partiti, tutti i partiti sono nati come movimenti, questo ce l'ha insegnato Michers, un grande sociologo italiano della prima metà del Novecento, e si tratta di capire a che punto è il cammino tra la sponda movimento e la sponda partito. Ho avuto una fortuna recentemente, cioè qualche mese prima degli stati generali del movimento, una senatrice del movimento stesso mi ha commissionato una ricerca proprio per misurare a che punto era l'evoluzione culturale della cultura politica del movimento stesso. Il movimento rispetto agli inizi ha conservato una serie di slogan, e di idee portanti e fondanti e fondative, come per esempio quella dell'ambiente, quella della democrazia diretta e così di sento. Però nel frattempo ha acquisito una serie di concetti che prima abborriva, per esempio l'odio verso il populismo è diffusissimo all'interno, non si crederebbe, ma all'interno dei Cinque Stelle. Questo è abbastanza sorprendente in effetti, è abbastanza sorprendente. Un emergente amore per esempio verso i sindacati, un ripudio totale del neoliberismo è così di sento. Ora queste rotture che ci sono dentro il movimento partito sono proprio un'ultima scaramuccia tra quelli che sono diventati partito, lo sono già tutti gli effetti e quelli che non lo sono ancora e forse non lo diventeranno mai. Per cui io credo che probabilmente ci sarà un ulteriore salasso da parte del movimento, che ha perso molti suoi consensi durante l'accoppiamento con Salvini, che gli ha rubato un 15% dei consensi. E ora ne perderà un altro poco dall'altro lato. Ma avrà un riflesso parlamentare, nel senso che può arrivare addirittura sul MES una questione tale da coagulare tutti i malumori fino ad aprire una crisi. Oggi ricordo che ci sono tutti i segnali arrivati anche dal Quirinale di preoccupazione, visto che fa uscire che addirittura ci sarebbe il voto. No, non credo proprio che si arrivi alla crisi, anche perché quelli che escono è per un eccesso, diciamo, di legame con il movimento, non per una carenza di... Quelli se ne sono andati con Salvini, quelli che avrebbero fatto la crisi. Dario Di Vico, come vedi questo momento dei 5 Stelle? Poi arriviamo anche a una questione fortemente non solo simbolica, ma di sostanza, come il radio di cittadinanza. Però ora siamo sul MES, su questi scenari. I giornali oggi hanno varie segnali, colgono segnali di preoccupazione rispetto a questo quadro. Beh, è chiaro che è cambiata la base dei 5 Stelle. Prima parlavamo del 33% dell'elettorato, adesso parliamo del 16%. Quindi c'è stata una mutazione molto veloce che quindi può aver cambiato sicuramente il baricentro delle idee di coloro che ancora manifestano consenso per i 5 Stelle. Quindi fa benissimo il professor De Masi da sociologo a ricercare queste discontinuità e perché dentro queste discontinuità capiremo qualcosa di meglio. A me colpisce però quando il Premier dice noi rappresentiamo la politica nuova e manifesta ribrezzo nei confronti della parola rimpasto. Ecco, io non penso onestamente che si possa dire che questa sia una politica nuova. So che ci sono team di giuristi e politologi che stanno lavorando attorno all'analisi, all'indagine di come è cambiata la democrazia, che slittamenti ha avuto la democrazia italiana in questo anno della pandemia e vedremo che risultati usciranno fuori. Io vedo sicuramente che il rapporto tra la politica, dei partiti più precisamente, e il loro sottostante, la domanda sociale, è sempre più scisso. Faccio un esempio concreto. Il centrodestra è contro il MES. Bene, prendiamo la regione dove il centrodestra in Italia è più forte, il Veneto. E allora dico, proviamo a fare un sondaggio tra gli imprenditori del Veneto per vedere se sono a favore o contro l'Europa, se sono a favore o contro il MES. Io dico la mia, per carità, non posso, non ho fatto un sondaggio scientifico, ma io penso che nel Veneto ci sia oggi un chiaro giudizio, che da questa crisi si esce più europei di prima. Perché questo è cambiato, mentre noi inseguivamo le mosse dei vari segmenti dei partiti, è cambiata una cosa in profondo nell'opinione pubblica italiana. Siamo ridiventati filoeuropei. Questo è un meccanismo che riguarda anche l'opposizione, riguarda anche la Lega, per dire, non soltanto i 5 Stelle, una cosa di carattere più generale. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Chiedo scusa, restate con noi, vedo Lorenzo Pregliasco, quindi vuol dire che avremo tra poco anche la supermedia, come tutti i venerdì. Dicevo, il Presidente del Consiglio Conte convoca la sua bella conferenza stampa, la convoca facendo finta che ci deve parlare di un problema che ci riguarda, che interessa a noi, che interessa il nostro futuro, che interessa che cosa possiamo fare, che interessa il nostro Natale, i nostri desideri, i nostri sogni, le nostre speranze, le nostre difficoltà e le nostre tragedie e lo usa per fare altro. Da Palazzo Chigi, in prime time, con la domandina casualmente messa lì, a chiedere, Presidente Conte, ma che cosa ci risponde su questo fatto che c'è stato un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere conto dell'utilizzo, pare improprio, di uomini della sua scorta, per andare a mettere in salvo la sua fidanzata che veniva rincorsa da alcuni giornalisti per chiedere domande su una legge a personam che il Presidente del Consiglio e il Governo italiano avrebbero fatto per il padre di questa signora, che pare sia stata aiutata dagli uomini della scorta del Presidente del Consiglio a scappare da quei giornalisti. E lui, davanti a milioni di italiani collegati per sapere se a Natale possono vedere i loro nonni, approfitta per dare la sua versione unilaterale a questa vicenda come se non dovesse, come tutti gli esponenti politici del mondo, difendersi in una sede propria, in una sede nella quale qualcuno possa rispondergli, in una sede nella quale si possa approfondire il problema politicamente e non ci sia semplicemente uno sproluocchio di un signore solo che ritiene di essere il padrone di questa nazione. Allora, abbiamo andato in onda tutta questa recriminazione accusa di Giorgia Meloni su un passaggio della conferenza stampa, uno solo passaggio della conferenza stampa, in cui Conte si è difeso rispetto a questa questione. Ma io vorrei chiedere a Molinari, abbiamo sentito questi toni di Giorgia Meloni, comunque è un esponente dell'opposizione, ha scelto questa parte di bersaglio polemico, però lo vorrei inserire in una valutazione complessiva di questa fase. Cosa può succedere? Perché abbiamo un'opposizione che si è per il momento ricompattata rispetto a questa giornata che sarà cruciale, comunque del 9 gennaio. Abbiamo un'opposizione che sembra essersi ricompattata, però manca ancora una settimana, su un no al MES. Abbiamo le spinte di cui abbiamo parlato e che sia De Masi che Di Vico ci hanno argomentato anche con un discorso più profondo rispetto a malessere, però comunque poi c'è una risultante parlamentare di numeri, ci saranno o non ci saranno, una situazione di accerchiamento di Conte, dei messaggi contrastanti, per la verità, che sono arrivati dal Quirinale, perché da una parte ha fatto filtrare nei giorni scorsi un'assoluta ostilità all'apertura di una crisi, e adesso a questo punto però in un certo senso ha fatto filtrare con tutti i quirinalisti unanimi, perciò vuol dire che è effettivamente il messaggio del Colle attenzione, non è detto che la crisi si è porti a un altro governo, ma potrebbero esserci le elezioni. Allora è un quadro che secondo te come la metto così in termini brutali, come può andare a finire il 9 questo quadro e con quali conseguenze? E' un quadro che è serio per il governo che si spiega con il fatto che dopo i provvenimenti sulla blindatura del Natale per proteggere il Paese dalla terza ondata il governo adesso deve varare il recovery fund sulla ricostruzione. La vera partita che inizia praticamente da subito è la ricostruzione. il voto sul MES è un anticipo di questo perché il voto sulla riforma del MES è un voto sull'adesione ai principi dell'Europa e alla coesione con i partner europei lì dove la ricostruzione sarà un processo europeo. Questa è la chiave. questo è il motivo per cui il Quirinale dà giustamente grande importanza al voto del 9 in chiave europea e noi non possiamo affrontare la ricostruzione in una situazione di attrito con i Paesi europei. Il recovery fund è un percorso comune sarà sostanzialmente un grande progetto per la ricostruzione dell'Europa e quindi anche dell'Italia. Iniziare questo percorso con un voto contro la riforma del trattato considerata da Berlino e Parigi come il primo mattone del rafforzamento dell'Eurozona per uscire più forti e non più deboli dalla crisi della pandemia è di fatto un suicidio politico. Quindi è un po' tutto si tiene e questo spiega anche la situazione di grande pressione sul Presidente del Consiglio. Questo bisogna dirglielo bisogna ammetterlo con grande serietà e guida una coalizione turbolenta che deve prendere nei prossimi giorni delle decisioni strategiche su come fare il recovery fund come gestirlo a chi affidarlo che tipo di rapporto avere con i paesi europei nella gestione dei singoli dossier ammettere le aziende europee in che maniera insomma siamo di fronte a io credo settimane decisive molto difficili dove serve un governo coeso compatto e molto forte l'ipotesi del rimpasto nasce da qui il governo Conte 2 è stato sicuramente capace di difendere il paese pur nelle difficoltà dalla pandemia il punto è un governo così debole soprattutto a causa della fragilità dei 5 stelle è in grado nei prossimi due anni di guidare la ricostruzione o serve un governo più forte magari con la stessa composizione ma con una composizione politicamente più autorevole io credo che sia questo l'interrogativo sulla schiania del premio eh sì questo tema è sempre nella conferenza stampa è stato annunciato per lunedì il Consiglio dei Ministri che dovrebbe scegliere finalmente la composizione la modalità e anche i poteri della struttura che deve guidare proprio questi piani di ricostruzione i piani per gli aiuti europei vedo Lorenzo Pregliasco volevo chiederti Lorenzo intanto la supermedia partirei da qui si è parlato della situazione dei 5 stelle con analisi approfondite vorrei sapere insomma da te in tanti numeri intanto c'è l'audio però che non funziona colpa mia colpa mia buongiorno a tutti questa ammissione ebbè quando ci vuole ci vuole no tra poco possiamo vedere anche anche il cartello della supermedia questa settimana non ci sono grandissime variazioni c'è una variazione un po' più di rilievo che vediamo tra un attimo eccola qui insomma Lega 24% PD 20,4 quindi rimangono questi tre punti e mezzo tra primo e secondo partito Fratelli d'Italia 16,1 e anche qui rimane luce tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle che è fermo al 15% e il cambiamento un po' più rilevante di cui dicevo Alessandra è quello di Forza Italia perché dal 6,8 passa al 7,3 c'è un incremento di mezzo punto e diversi sondaggi hanno registrato questa crescita per il partito di Silvio Berlusconi che è un po' tornato protagonista nell'ultime settimane del dibattito politico per il resto vediamo sullo scostamento di bilancio soprattutto questa centralità che ha ripreso nella scacchiera esatto anche mediaticamente si è parlato molto di Forza Italia di Berlusconi in queste settimane e poi vedevamo una sostanziale stabilità per quanto riguarda gli altri partiti Italia Viva di Renzi azione di Calenda e la sinistra articolo 1 tutti intorno al 3% quindi qua non ci sono enormi variazioni la somma delle forze politiche ci porta al cartello 2 queste due aree la maggioranza di governo giallorossa 41,7% in calo di mezzo punto e il centrodestra nel suo complesso al 48,5% in crescita dello 0,7% per intenderci negli ultimi ormai negli ultimi 18 mesi più o meno il centrodestra è sempre stato intorno al 48% quindi non è una grande variazione ma ci dice che a oggi nei sondaggi la somma dei partiti di centrodestra è circa 7 punti davanti alla somma dei partiti della maggioranza di governo allora vado da Dario Di Vico a questo punto perché tornando su i segnali di scricchioli di cambiamenti nella difficoltà di questa fase politica è emerso proprio ieri Di Vico si è dedicato molto a questo tema con un pezzo ampio e dettagliato il reddito di cittadinanza è illusione perduta cioè c'è dentro come dire dentro la crisi dei 5 stelle si sta consumando anche la crisi di questo che è stato il provvedimento bandiera oggi ci tornano altri quotidiani il foglio domani il foglio parla di flop di reddito di cittadinanza e ci sono state anche delle ammissioni importanti per un pezzettino di maio per un pezzo anche tridico che ne è stato invece grande sostenitore allora perché illusione perduta Dario Di Vico? Beh illusione per come è stato concepito quel provvedimento l'idea di fondo e sulla quale poi c'è stato anche un ottimo riscontro elettorale e politico era quella che la lotta alla povertà e la lotta alla disoccupazione si affrontassero con un solo provvedimento un provvedimento taumaturgico che avrebbe abolito la povertà rilanciato i centri per l'impiego e portato in campo anche i famosi navigatori ecco questa costruzione che era molto ideologica si è frantumata e lo ha ammesso lo stesso Di Maio recentemente in un articolo pubblicato pubblicato dal foglio ora quindi noi siamo in una fase diversa sia chiaro il reddito minimo ha funzionato nel senso che nei mesi della pandemia il fatto che ci fosse un reddito per le fasce più disagiate per gli indigenti è una cosa positiva e va e va riconfermata è la costruzione ideologico politica che pensava che per quella strada si sarebbe risolto anche il problema dell'occupazione invece i posti di lavoro per capire la dinamica dei posti di lavoro bisogna incrociare la domanda di lavoro bisogna sporcarsi le mani con gli orientamenti delle imprese non bisogna fare provvedimenti come quello che è stato che a suo tempo fu chiamato dignità che irrigidiscono il mercato del lavoro ecco questo è il flop diciamo di quella costruzione e il fatto che venga ammesso pubblicamente sia da Tridico sia da Di Maio io lo consiglio molto sommato un passo in avanti l'autocritica è positiva laddove corrisponde a una necessità di voltare pagina quindi teniamo fermo sicuramente il reddito minimo io propongo proprio di chiamarlo reddito minimo e non più reddito di cittadinanza lasciando stare la rivoluzione francese e tornando un po' sulla terra e quindi ragionare invece come le politiche dell'occupazione in questa fase saranno ancora più difficili oggi non sono ancora il tema non è ancora esploso per il divieto dei licenziamenti ma questa è una scadenza che noi affronteremo nella primavera del 2021 Allora De Masi che è grande sostenitore del reddito di cittadinanza anche nella nostra trasmissione spesso come la vede questa correzione è importante che ci sia stata che ci sia insomma come la vede? Dunque Di Maio ha detto questo che per quanto riguarda tutta la impalcatura del reddito di cittadinanza bisogna tra virgolette rivedere alcuni meccanismi è chiaro che tutti quelli che in questi mesi hanno tifato proprio in modo accanito contro il reddito di cittadinanza è bastato questo rivedere alcuni meccanismi per dire come dice lo stesso Di Vico ieri il figlio il reddito di cittadinanza è considerato figlio di Maio il figlio non esiste più a me pare che si stia andando troppo avanti nella speranza che questo figlio non esista più in realtà il primo gennaio del 19 del 2019 noi avevamo 5 milioni di poveri in Italia di questi 5 milioni praticamente poco più di un milione e mezzo aveva problemi di occupazione o perché aveva lavori sotto retribuiti o perché cercava lavoro e il grosso era fatto di persone che non avevano problemi di lavoro ma problemi di povertà come minori come vecchi come inabili certo è stato fatto un papocchio mettendo insieme le due cose però nei poveri ci sono sia quelli che hanno il problema del lavoro sia quelli che non ce l'hanno per cui qualunque legge anche successiva che si volesse fare per migliorare il tutto comunque le due cose non sono separabili come si immagina almeno per un terzo la popolazione dei poveri e anche popolazione dei disoccupati sì ma sì la questione riguarda le politiche le politiche attive e riguarda addirittura l'ANPAL che pare che pensino di smantellare la stessa cosa riguarda i navigators allora in Germania la rete dei centri per l'impiego impiega 111.000 persone da noi impiega 9.000 persone e abbiamo il triplo di disoccupati quindi il triplo di lavoro per i centri per l'impiego quindi quel blocco lì va non solo riorganizzato ma va rimpolpato quindi più navigator più navigator di Vico non so se intanto se ti riconosci nel ruolo di un po' di gufatore se possiamo usare questa espressione romanesca del radio di cittadinanza stamattina il professor De Masi diciamo è un difensore di ultima istanza sia del premier conte sia dei 5 stelle e capisco che avendo lavorato molto per i 5 stelle ha maturato una naturale simpatia non solo intellettuale ma probabilmente anche umana e ci sta mi accontento del fatto che abbia riconosciuto che è stato fatto un papocchio ecco allora se è stato fatto un papocchio mi scusi professore non rimpolperei il papocchio casomai lo semplificherei Molinari poi naturalmente repica però volevo chiedere anche a Maurizio Molinari che ne pensa e intanto anche perché comunque il tema del lavoro è uno dei grandi di temi e non so se il recovery fund e tutti quei progetti come dire sarà quello il luogo per riassorbire la disoccupazione e oggi è l'apertura del sole 24 ore nel 2021 meno ripresa più disoccupati tutti i paesi industriali avevano prima della pandemia delle politiche di sostegno delle fasce più deboli incluso anche il nostro anche se era un rimedio di tipo novecentesco e sostanzialmente inadatto ad affrontare il nodo delle diseguaglianze ma a prescindere da questa considerazione il disastro economico creato dalla pandemia obbliga tutti i paesi industriali a rivedere in maniera drastica le proprie politiche di sostegno dell'occupazione l'amministrazione Biden in una fase di transizione verso l'insediamento del presidente si appresta a varare un incentivo all'economia americana a pari di un trilione di dollari se Trump avesse vinto sarebbe stato di pari entità questo dà l'idea dell'imponenza della ricostruzione che abbiamo davanti se Francia e Germania premono per un recovery plan found a tempi accelerati è perché hanno in mente per l'Europa una ricostruzione di altrettanta imponenza tutto questo passa per il lavoro incomincia dal lavoro ha ragione di Vico quando parla che la scadenza di marzo sarà centrale quando scaderanno le attuali protezioni noi rischiamo di avere in poche settimane due milioni disoccupati di fronte a questo con tutto il rispetto per chi ha voluto immaginato e realizzato il reddito di cittadinanza parliamo dell'archeologia da un punto di vista delle necessità abbiamo bisogno di provvedimenti ben più incisivi con risorse ben più massicce e ne abbiamo bisogno in fretta per evitare che i danni economici e sociali siano difficili da recuperare è importante io credo per chi ci ascolta fare proprio questo senso di impellenza questo senso di necessità noi abbiamo bisogno di provvedimenti e aiuti all'economia imponenti in tempi stretti in chiave europea così come gli Stati Uniti li coordinano fra 50 stati ora il punto è che devono partire dal sostegno al lavoro e della riqualificazione di chi rischia di perdere il posto di lavoro per questo nell'agenda di Ursula von der Leyen ci sono temi chiave come l'innovazione e il green Flavia questa diciamo il di maio del foglio il di maio che è appunto aperto anche alla riflessione su salvare una parte del reddito cittadinanza ma l'altra da correggere è un come dire è un'indicazione che può essere eseguita dal movimento o è un altro diciamo senza creare i mal di pancia che vediamo sommesso probabilmente sarà un altro crinale polemico perché noi sappiamo che il reddito di cittadinanza così come l'altra misura bandiera del primo governo Conte del governo insieme con la Lega quota 100 sono stati un po' il segnalino di quella stagione la bandiera ideologica di quella stagione e la politica italiana fa sempre una grandissima fatica a rinunciare a questo tipo di bandierine ideologiche anche l'ostilità al Messi in qualche modo appartiene alla categoria delle parole d'ordine degli slogan che sono diventati ormai vuoti ma ai quali non si riesce a rinunciare perché si ritiene che si perderà la faccia quel che manca a mio giudizio nelle parole di Di Maglio è proprio quello che diceva il direttore Molinari il senso di urgenza a marzo noi possiamo immaginare licenziamenti su larga scala quindi nuove fasce di povertà nuove fasce di ricerca di lavoro e un movimento come il 5 Stelle che tiene in mano le leve anche della gestione economica del governo dovrebbe essere il primo a dire facciamo in fretta perché va fatto adesso prima che i tempi che non diventi una rincorsa a tempi che ci sopraffanno allora ci dobbiamo fermare pubblicità grazie a Domenico De Masi grazie a Dario Di Vico a Maurizio Molinari rimangono con noi Flavia Perina Lorenzo Pregliasco arriva Dario Fabri e poi avremo uno spazio per un'intervista con Walter Beltroni pubblicità allora di nuovo in onda do il buongiorno e il benvenuto a Dario Fabri redattore di Limes esperto di geopolitica buongiorno Dario buongiorno Alessandra il venerdì cerchiamo di guardare anche al di fuori dei nostri confini anche perché proprio la questione dei vaccini e anche la questione del recovery fund ci portano a come dire a considerare questi due temi anche all'interno di un contesto più generale allora però volevo ridare la parola a Lorenzo Pregliasco perché aveva qualche numero in sospeso e qualche considerazione da fare ancora di carattere politico e poi aprire questa pagina con la geopolitica dei vaccini vai Lorenzo eccoci sì c'era un aspetto interessante che poi in realtà può fornire anche un aggancio con quello che dirà forse Dario Fabri prima si citava l'elemento dell'Europa come parte della chiave politica in questo periodo è interessante notare come in realtà l'elettorato italiano sia a circa il 60% poco fiducioso nei confronti dell'Unione Europea ma soprattutto l'unico elettorato che ha fiducia molto abbastanza fiducia nell'Unione Europea è l'elettorato del centro-sinistra cioè anche gli elettori del 5 Stelle anche gli elettori di Forza Italia in realtà a maggioranza non esprimono fiducia nell'Unione Europea e questo credo che sia un elemento da dire questo mi dispiace che ovviamente Dario Di Vico che non è più nel collegamento perché era previsto così non perché se ne sia andato ma mi dispiace perché lui sottolineava un'altra questione che però c'entra e cioè che in Veneto tutto il mondo degli imprenditori che quindi è un sostenitore comunque della Lega perché c'è uno zaia che ha preso talmente tanti voti però è europeista quindi resta questa spasatura Lorenzo ma gli elettorati il grosso gli elettorati continuano ad avere sfiducia stanno insieme le cose contraddittorie esatto è interessante vedere come poi diversi pezzi degli elettorati hanno delle priorità degli orientamenti diversi per cui sicuramente ci sono componenti dell'elettorato di centrodestra pro-europee e componenti ad esempio dell'elettorato 5 Stelle pro-europee però nel complesso sono minoranza nell'elettorato di queste forze mi sembrava importante dirlo se vuoi Alessandra una cosa rapidissima sui vaccini lanci così la palla Dario e Fraglia che è rimasta con noi cartello 3 lo possiamo credo anche vedere sono diversi sondaggi usciti in questi giorni sui vaccini sulla intenzione o meno di fare il vaccino di aspettare o di non farlo nella popolazione italiana quello che vediamo da questi due dati di EMG e di Ipsos anche se si riferiscono a periodi diversi e che in buona sostanza c'è un po' più di un terzo degli italiani che farebbe appena possibile senza esitazioni il vaccino un 35-40% che aspetterebbe e una quota comunque non irrilevante che dice che non lo farebbe questo vaccino allora Dario Fabri partiamo proprio da qui da questa necessità non solo italiana di rassicurare per poter rassicurare le persone tutti i cittadini che dovranno spiegabilmente vaccinarsi fare i conti con delle diffidenze che hanno varie ragioni e che derivano però anche dall'accelerazione perché poi tanti sono spiazzati dalle accelerazioni diverse dalle tempistiche diverse dai diversi comportamenti delle agenzie regolatorie tanto che in America non so se possiamo far vedere queste immagini sono scesi in campo come testimonial tre ex presidenti eccoli qua questi li vediamo in una vecchia immagine Clinton Obama e Bush tanto per cercare insomma di fare questa campagna anche come controoffensiva immagino alla narrazione di Trump è così? Sì sì è così dobbiamo dire ma l'hai detto già tu in realtà che lo scetticismo che riguarda i vaccini al di là di un trend che conosciamo quello dei novax che non è maggioritario ma che comunque si è diffuso almeno nell'ultimo decennio in molti paesi occidentali qualcuno di più qualcuno di meno come dicevi tu per l'appunto c'è la questione di un'accelerazione evidente nella produzione del vaccino cioè c'è quel luogo comune non sono uno scienziato quindi non ti saprei dire ma è diffuso per cui ci hanno messo troppo poco essenzialmente vatti a affidare questo è diffuso anche negli Stati Uniti Stati Uniti che hanno organizzato peraltro con una spesa che supera tra i 2 e i 3 miliardi di dollari hanno finanziato una velocizzazione del vaccino non sono gli unici ma hanno speso veramente molti soldi affinché il vaccino fosse così i vaccini anzi fossero così veloci sul piano della gestione dei vaccini quindi di quella che viene chiamata geopolitica dei vaccini che è detto in maniera molto semplice come le grandi potenze del pianeta invece di collaborare fra di loro che in caso di pandemia dovrebbe essere normale per il semplice motivo non tanto per ragioni ecumeniche o chissà di quale sentimento d'amore fra le varie potenze che non esiste ma semplicemente perché quando siamo davanti ad una pandemia se anche noi ci vacciniamo tutti ma poi continuano ad esserci focolai improvvisi in giro per il pianeta perché i vaccini non sono arrivati è evidente che prima o poi l'abbiamo imparato talmente bene il virus potrebbe tornare anche da noi stiamo parlando di qualche tempo da adesso in poi ma si ragiona su questo ma a di là di questo c'è una corsa ad accaparrarsi il vaccino adesso perlomeno fra potenze in maniera concorrenziale prendiamo semplicemente il caso di Pfizer Pfizer ha avuto ordini 200 milioni di dosi ordinate dall'Unione Europea più 100 milioni ancora opzionate 120 milioni le ha ordinate il Giappone gli Stati Uniti altre 100 milioni altre 30 milioni il Regno Unito tutto questo per dire che Pfizer ha già detto che il 2021 queste dosi non ce le avrà allora chi vanno in quale maniera con quale proporzione qualcuno risponde in base agli investimenti che hanno fatto questi paesi dentro Pfizer o in altre società in altre industrie che li producono ma non è così semplice perché spesso poi intervengono i governi e quindi tirano strattonano queste aziende farmaceutiche verso le quali peraltro hanno rapporto con le quali hanno rapporti un po' complessi quindi c'è già questo tema a chi andranno e come in quale maniera ci sarà perché un conto è la prenotazione delle dosi un conto è la fabbricazione materiale di tutti questi mi pare questo sia in nodo e l'altra fase Alessandro chiudo l'altra fase è quella successiva perché questa è la prima fase cioè a chi arriva come ce lo prendiamo come litighiamo e come imponiamo la nostra potenza sugli altri per prenderselo l'altra fase è il soft power che non è solo soft power come dicevo cioè far arrivare poi in una seconda chissà forse in noi terza fase vedremo anche i paesi che non se lo possono permettere come gli altri che non hanno le strutture ad esempio per riceverlo visto che abbiamo imparato che ci vuole una refrigerazione di vaccini è il caso di Pfizer è quello massimo molto elevata dove non ci sono le strutture per trasportarlo in quel caso cosa si fa? Ecco l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha creato quella che si chiama con una parolaccia una task force a noi molto usata per cui ci dovrebbe essere un coordinamento ma gli Stati Uniti e la Russia si sono già tirati fuori non parteciperà non parteciperà la Cina che considera questa è anche a ragione un'occasione ottima per mostrare la sua buona volontà ed ergersi a potenza internazionale ho altre due domande su questo quadro più allargato ancora ci sono anche due pezzi oggi sul Repubblica e anche sul foglio uno Repubblica così il vaccino cinese va alla conquista del continente africano e il foglio Mosca si rincorre da sola la Russia inizia una campagna di vaccinazione di massa prima di tutti ma prima di arrivare da te con questa domanda volevo chiedere a Flavia Perina se c'è un nesso come dire politico-culturale anche o una tentazione se vogliamo così da parte dire così della destra e anche del centrodestra italiano ma della destra in generale diciamo rispetto a come dire a cavalcare la diffidenza per i vaccini da noi e fuori cioè se in agguato c'è questo se invece si spaventeranno e su questo sì sicuramente c'è questo così come nella primissima fase dell'emergenza e anche fino al settembre ottobre scorso la destra ad esempio ha cavalcato alcuni elementi molto visibili della destra penso a Sgarbi la diffidenza verso le mascherine è in generale l'idea nel sottofondo cioè l'idea che questo virus come hanno detto alcuni autorevoli medici di riferimento di quel tipo di mondo sia poco più di un'influenza e che quindi tutto quanto ciò che si sta muovendo intorno al virus sia eccessivo corrisponda a interessi più o meno occulti e nascosti e immagino che questo meccanismo sarà moltiplicato quando finalmente arriverà il vaccino ma io volevo fare un'altra osservazione questo è un pochino nel DNA della destra nella gestione della destra di questa pandemia ma in realtà l'unico vero presidio contro i complottismi negazionismi la diffidenza è la trasparenza dell'informazione pubblica sui vaccini questa trasparenza ad esempio a mio giudizio non c'è stata non la vediamo questo vaccino ad esempio ha molti aspetti tutti i vaccini finora che sono arrivati alla fase della validazione se ne parla come della panacea di ogni male ma poi se si stanno a leggere gli scienziati nei loro testi più approfonditi ti dicono appunto che non è ancora chiaro per quanto tempo avranno effetto non è ancora chiaro qual è la gamma degli effetti collaterali e in effetti non sono stati ancora validati dalle agenzie di cui ci fidiamo quelle europee però non saranno a disposizione fino a che non saranno validati però l'atteggiamento miracolistico nel confronto del vaccino a mio giudizio è un elemento che paradossalmente alimenta più diffidenza che condivisione torniamo a una questione diciamo di comunicazione Lorenzo Pregliasco c'è un problema di questo tipo secondo te guardandolo anche appunto altrove non soltanto anche tu sei un grande osservatore degli Stati Uniti guardando anche un po' al di là del nostro naso sì interessante come invece stavo pensando alla narrazione trampiana in quel caso ci fosse un'evidente puntata da parte di Trump sul vaccino e su un vaccino presto tant'è che come sappiamo l'annuncio di Pfizer e di Moderna due società americane di novità promettenti sul vaccino subito dopo le elezioni americane abbia indispettito una parte della base trampiana che ha detto hanno aspettato il risultato delle elezioni quindi un negazionismo su un fronte ma un'accelerazione sul vaccino il negazionismo riguardava più il virus che non la possibilità di batterlo insomma esatto il che poi è paradossale nel senso che se il covid non fosse un problema non avremmo bisogno di un vaccino e invece è un problema e c'è bisogno di un vaccino però ecco nella narrazione di parte almeno della destra americana e di Trump c'era questa divaricazione mi sembra tra vaccino e epidemia Dario allora la questione di questa la corsa diciamo a far prima e le sue implicazioni la Cina e la Russia e l'Europa è un po' quello che dicevamo prima cioè la Cina punta molto sull'Africa perché punta molto sull'Africa non perché per essere molto brutali con l'Africa possa diventare la prima potenza del pianeta è molto difficile mediamente si diventa prima potenza del pianeta controllando l'Europa gli americani lo sanno molto bene però la Cina sfrutta molto l'Africa non è l'unico paese anzi sfrutta molto l'Africa per quanto riguarda le risorse costruisce infrastrutture da quelle parti quindi c'è una sorta di scambio decidete voi da quale parte è più proficuo e però sa molto bene che il vaccino può essere un'occasione di soft power che non passa soltanto per l'Africa ma che potrebbe passare anche per il sud-est asiatico che invece è molto più rilevante dell'Africa per le ambizioni di potenza della Cina il punto per quanto riguarda la Repubblica Popolare è che ci sono due fragilità da un lato la popolazione la Cina ha un miliardo e quattrocento milioni di abitanti più o meno non è certa ma comunque tra un miliardo e trecento milioni e un miliardo e quattrocento milioni quindi prima deve vaccinare se stessa ed è un vasto programma si sarebbe detto qualche tempo fa ci può riuscire certamente lo farà però ci vuole del tempo l'altra fragilità accennavamo a questo poco prima è la questione delle strutture nel trasporto noi non sappiamo benissimo a quale temperatura vadano conservati i vaccini cinesi non ne abbiamo idea non c'è ufficialità da questo punto di vista però se fossero un po' come gli altri servono delle strutture di rifrigirazione molto complesse che in alcuni paesi semplicemente non ci sono che non riguardano soltanto il trasporto ma anche la conservazione del vaccino una volta che questo è arrivato quindi c'è la Cina ha queste due fragilità e non è l'unica nell'estendere il suo soft power da ultimo la Russia a cui facevi riferimento ed è interessante che si parli di Russia mentre noi discutiamo in maniera assolutamente legittima intendiamoci di quanto siano o meno certificati o validati i vaccini mi sembra che in Russia siano molto avanti non dico nella validazione ma nell'accettazione del vaccino come qualcosa che va fatta e basta visto che il governo russo ha lasciato intendere che il vaccino va fatto punto quindi decidete voi quanto questo sia più o meno giusto o legittimo grazie a Dario Fabri allora vedo già collegato e poi naturalmente avremo la nostra conversazione ma non posso rinunciare come dire a anticipare questo pezzettino Walter Beltroni buongiorno benvenuto a Omnibus buongiorno vorrei approfittare di questo di questa nostra è già pronto collegato per chiederle se allora per chiedere una cosa su Biden che è questa allora innanzitutto è notizia di queste ore che Biden ha fatto una aperta una campagna per cento giorni con le mascherine a proposito delle preoccupazioni che dicevamo ma l'altra cosa su cui mi piaceva sentire la sua opinione è che ha programmato una conferenza sulla democrazia significa che appunto la percepisce come in pericolo secondo lei? Penso di sì e penso che abbia ragione perché non c'è dubbio e danni che qualcuno di noi si affanna a dire che probabilmente l'evoluzione sociale della struttura finanziaria i meccanismi di conoscenza la crisi delle istituzioni rappresentative emerse diciamo dalla seconda metà del novecento rischiano di aprire la strada a forme di finta democrazia l'hanno chiamata democratura cioè una una crasi tra la democrazia e una dittatura nel senso di poteri semplificati in cui alla lentezza dei processi democratici corrisponde la semplificazione brusca della decisione nelle mani di un uomo solo è quello che già succede in vari paesi per cui se Biden ha deciso di fare questo è secondo me una saggia decisione naturalmente non sono le conferenze a risolvere i problemi è la velocità la trasparenza l'efficacia della democrazia però già avvertire il problema è giusto e saggio nonostante abbia vinto diciamo è come se fosse una sottolineatura che non è finita qui dal suo punto di vista dal punto di vista dei democratici direi proprio perché ha vinto proprio perché è riuscito a superare una condizione abbastanza paradossale nella quale la più diciamo longeva democrazia il luogo dove dittature non si sono mai insediate come gli Stati Uniti si è trovata nel corso delle settimane passate con un presidente che non riconosceva il risultato c'è un cambio di clima l'immagine che voi avete mostrato prima di Barack Obama di George Bush e di Bill Clinton insieme che annunciano che si vaccineranno in diretta trevisiva è diciamo lo specchio di quell'America l'America nella quale appunto giusto o sbagliato poi c'è c'è il paese Trump era altro rispetto a questo a questa tradizione e il fatto che da presidente sia stato sconfitto è il segno che probabilmente la ventata demagogica populista diciamo la spinta alla semplificazione di tutto e anche al rischio di una scivolata di tipo autoritario probabilmente nel cuore dell'opinione pubblica almeno di quella americana è meno presente allora dobbiamo andare in pubblicità saluto Dario Fabri Lorenzo Pregliasco Flavia Perina ci vediamo subito dopo con Walter Veltroni allora di nuovo in onda avevo già salutato ho dato il benvenuto a Walter Veltroni con il suo libro il labirinto italiano viaggio nella memoria del paese pubblicato da Solferino vorrei partire come dire utilizzare il titolo di questo libro per il nostro colloquio perché mi sembra che il riferimento del libro è un più ampio contesto così labirintico dell'Italia però è labirintica anche la situazione nella quale ci troviamo in questo momento con la maggioranza il governo che così sente gli scossoni siamo partiti da lì gli scossoni delle divisioni interne ai 5 Stelle ma anche il partito democratico che non è soddisfatto della squadra è polemico sulle chiusure ha delle come dire delle ragioni di scontro nel capitolo cruciale lo ha richiamato Maurizio Molinari nella prima parte della trasmissione nell'urgenza di essere pronti avere le idee chiare su cosa fare per ricostruire con il recovery fund dei tanti miliardi dei quali l'Italia può beneficiare allora vorrei capire qual è il filo che ci può guidare in questo labirinto in questo momento secondo un osservatore del suo calibro ma guardi io penso che al di là dell'emergenza che deve essere affrontata e naturalmente da questo punto di vista invidio tutti i possessori di ricette imbattibili francamente in giro per il mondo non mi pare che nessuno sia riuscito a venirne a capo salvo i tedeschi che hanno avuto ma storicamente hanno una organizzazione statale capace di reggere anche ad una pressione di questo genere oppure loro comunque hanno pagato un prezzo alto però al di là dell'emergenza il problema vero è quello di cui parlava Molinari prima cioè quando si vivono crisi devastanti come queste guardi il dato di ieri mille morti è una cosa io mi auguravo anche il Presidente del Consiglio ne parlasse ieri sera mille morti sono quanto i morti che ci sono stati col terremoto del Friuli mille morti in una giornata sono qualcosa di spaventoso sono mille famiglie delle 58 mila che sono state colpite da questa vicenda che sono la cui vita è distrutta insomma siamo in una situazione veramente molto drammatica nelle situazioni drammatiche che la grandezza di un di un ceto politico io non uso l'espressione classe politica che non mi piace di un ceto politico insomma di chi ha responsabilità è quella di immaginare il futuro fu fatto così durante la la guerra la seconda guerra mondiale quando finalmente il paese fu liberato dal fascismo ci fu una generazione di italiani che immaginò il futuro l'immaginò attraverso la Costituzione l'immaginò attraverso la ricostruzione materiale di un paese che era un cumulo di maceri ecco io ho l'impressione che questa sia la parte un po' che manca cioè quella solidità quella forza quella autorevolezza che faccia immaginare che già adesso si sta progettando un paese diverso perché l'Italia non tornerà quella che era prima ma la sua impressione è la sua impressione che questa progettazione sia in ritardo e questa come dire anche un po' inquietudile perlomeno di una parte del Partito Democratico rispetto forse a una di Italia Viva anche di Renzi diciamo a un non coinvolgimento pieno dentro questa questa partita anche se ovviamente c'è il ministro dell'economia Gualtieri che però dal punto di vista politico Alessandra il mio sguardo non è diverso dal suo nel senso che ne so quanto lei cioè non mi pare ci sia stato un dibattito pubblico non mi pare siano state enunciate le grandi idee e forza sulle quali appunto il paese si ricostruirà e anche quando si parla di questi organismi con centinaia di persone abbiamo già avuto la commissione Colà o il seminario che si è svolto tempo fa io ho l'impressione che ci sia questo torniamo alla domanda che lei mi ha fatto prima della pubblicità la democrazia non è un'assemblea di condominio la democrazia è l'esercizio della responsabilità la capacità di decidere attraverso l'ascolto e il convolgimento degli altri le due cose non sono in contraddizione naturalmente questo richiama i modelli istituzionali e qui si apre una discussione che sarebbe giusto fare anche perché ormai sono passati mesi dal referendum sul taglio dei parlamentari e tutte quelle annunciate riforme che erano state una parte della campagna dei sostenitori del sì non si sono ancora né viste né realizzate però il recovery fund non potrà essere gestito in maniera assembleare il recovery fund comporterà che il governo in un rapporto parlamentare con l'opposizione e attraverso un efficientamento di tutta la macchina amministrativa stabilisca scelte fondi tempi e procedure ma questo non può essere affidato ad un'assemblea di condominio chiaro le chiedo anche se a proposito di riforme perché anche su questo ieri nella conferenza stampa Conte è sembrato un po' correre ai ripari rispetto a pressioni che arrivano dai partiti perché tutto sommato era un accordo era nell'accordo nei 29 punti su cui è nato il governo giallorosso nell'estate del 19 c'erano anche le riforme istituzionali e lui ha detto ma no le faremo anche se in realtà i tavoli non sono andati benissimo però a questo proposito lei ha registrato abbiamo registrato in una sua intervista a Repubblica una grande preoccupazione per il ritorno al proporzionale e allo schema del proporzionale in fin dei conti lei è stato grande fautore del Partito Democratico anche della sua vocazione maggioritaria quindi questo però è quello che sta chiedendo il PD di oggi la preoccupa questa cultura del proporzionale così diffusa anche che entra in collisione con le regioni poi peraltro ma guardi io capisco anche la ragione per la quale nasce perché diciamo il maggioritario che progressivamente ha cambiato natura perché noi abbiamo avuto non so quante leggi elettorali il Rosatellum il Porcellum con dei nomi anche imbarazzanti non hanno prodotto gli effetti di stabilità necessari però il problema del nostro paese dal mio punto di vista è la stabilità negli ultimi 15 anni in cui la Merkel ha governato la Germania in Italia ci sono stati non so quanti governi forse 9 è chiaro che questo comporta una ridotta capacità di decisione e dunque di funzionamento e di efficacia della democrazia nel mio schema ma che non è solo il mio ovviamente di tutti coloro i quali sostengono da Romano Prodi a tanti altri sostengono l'idea di un'evoluzione bipolare del paese la democrazia si organizza attraverso due grandi schieramenti che si confrontano vanno alle elezioni presentano un programma gli elettori ne scelgono l'uno o l'altro e quella coalizione è gli piace o no vincolata a governare per 5 anni non è che le differenze prende il partito democratico americano non è che le differenze che esistano tra Sanders o altri rispetto a Biden siano superiori alle differenze che esistono per esempio nell'arco del centrosinistra e lo stesso si può dire per il partito repubblicano che teneva insieme da Bush a Trump però lì le condizioni politiche determinano il fatto che queste persone anche con posizioni diverse siano chiamate a convivere e quindi le loro differenze non vanno a scapito della stabilità del paese io temo che una legge proporzionale in Italia sia un incentivo alle scissioni alle divisioni ai governi trattati sulla base degli scambi di potere che siano un'anticamera di un'ulteriore instabilità quindi la preoccupazione ma questo è come posso dire una convenzione molto radicata molto profonda penso che questo paese abbia bisogno di una democrazia che funziona in cui i governi li scelgono i cittadini e non li scelgono le segreterie dei partiti con un governo che governa di più e un Parlamento che controlla di più ci vogliono più poteri sia all'uno che all'altro mentre stiamo parlando è arrivata una notizia che insomma è destinata a fare confusione nel labirinto nel labirinto di questa fase cioè una dichiarazione di Beppe Grillo sul MES Beppe Grillo ha detto poco fa è uno strumento inadatto e inutile non starò qui ad elencare le mille ragioni che fanno del MES uno strumento non solo inadatto ma anche del tutto inutile proprio uscito adesso per far fronte alle esigenze del nostro paese in un momento così delicato a farlo ogni qualvolta gli viene messo un microfono sotto il naso ci ha già pensato il nostro presidente del Consiglio dunque non è una questione di soldi che sembrano esserci ma come dove usarli la MES è finita ha scritto Grillo sul suo blog è un elemento diciamo potrebbe essere il via libera per i 5 Stelle per insomma votare contro il governo non accettare l'accordo un ombrello o invece diciamo così qualcosa che poi può recuperarli e tenere insieme i gruppi la MES è finita ma non è andata in pace in questo caso nel senso che non so quanto questa dichiarazione possa rasserenare in un momento nel quale ci sarebbe bisogno vede si può dire tante cose del Partito Democratico ma non il fatto che non abbia senso di responsabilità io credo che abbia dimostrato lo dico diciamo da osservatore appassionato abbia dimostrato nel corso di questi mesi un grande senso di responsabilità anche sostenendo posizioni che talvolta non erano esattamente coincidenti con la propria ispirazione di fondo e comunque spostando l'asse del governo dal governo precedente a questo per esempio su una posizione più europea e a questo proposito il MES è uno strumento che ieri il Presidente del Consiglio ha detto che verrà esaminato e non ha scartato nel senso che ha preso il tempo capisco anche le ragioni politiche per le quali lo ha fatto però ecco insomma vista la situazione della nostra sanità vista la situazione del nostro debito pubblico viste anche le lentezze dei tempi dei recovery fund io credo che probabilmente invece sia uno strumento al quale sarebbe opportuno attingere però questo lo affido diciamo per parte mia guardi Alessandra la cosa importante in questo momento è questa siamo in una situazione come dicevo drammatica e vorrei che di questo dramma che c'è nelle case di tutti gli italiani tutti avessimo un pochino più di partecipazione di solidarietà e di empatia e in questo momento per come il paese sta queste baruffe chiozzotte diciamo così che si che si scatenano ogni giorno sembrano marziane quindi si sedessero attorno a un tavolo in segrete stanze si mettessero d'accordo e poi dessero al paese l'idea di una solidità di una forza di un'autorevolezza nell'affrontare questa emergenza nel progettare il paese nuovo del quale la condizione drammatica degli italiani in questo momento ha bisogno non ha rinunciato ai suoi appelli al dialogo anche con l'opposizione perché ricordo un intervento su Corea della Sera su questo che però appunto in realtà questo tema del dialogo un po' da tutte e due le parti non so lei che cosa pensa se non va avanti perché è colpa dell'opposizione o c'è anche uno zampino diciamo di scelta del governo in particolare di Conte di una modalità più legata diciamo così allo scontro con Salvini ma guardi intanto quei 58 mila morti e il fatto che come ieri è stato detto un italiano su 36 sia stato contagiato dimostra come fossero sbagliate le posizioni negazioniste le mascherine strappate e tutto il resto che ci ha accompagnato nel corso di questi mesi e questo naturalmente ha comportato anche delle contraddizioni nella destra abbiamo visto anche gli atteggiamenti di Forza Italia che diciamo ha oscillato su posizioni diverse io rimango dell'idea però che in una situazione drammatica come quella che ho cercato di descrivere come quella che gli italiani sanno meglio di chiunque altro ci sia bisogno di un rapporto di dialogo senza confusione dei ruoli perché in Italia si pensa che se si dialoga bisogna fare un governo insieme no c'è chi sta al governo chi sta all'opposizione e però si dialoga si coinvolge si trasmettono le informazioni e questa è la parte che riguarda il governo la parte che riguarda l'opposizione è la responsabilità dei toni dei linguaggi credo che questo sia necessario guardi abbiamo avuto altri momenti nei quali questo è accaduto penso al terrorismo quella mattina in cui Moro fu rapito io lo racconto nel documentario sulle edizioni straordinarie che andrà in onda sabato sera sul Rai 3 nel momento in cui Moro fu rapito il partito comunista stava decidendo se sostenere o no il governo Andreotti che quella mattina si formava perché c'era una presenza eccessiva di una vecchia classe politica con il rapimento di Moro Berlinguer decise di assumere un atteggiamento che poi nel corso di quel periodo e del tempo successivo pur pagando un prezzo politico ha consentito all'Italia e alla democrazia italiana di resistere ci sono dei momenti nei quali bisogna avere la forza per chi governa di includere chi sta all'opposizione e per chi sta all'opposizione di rinunciare alla facilità della demagogia ripeto tutto questo oggi alle orecchie degli italiani arriva come un insopportabile gracidare io la ringrazio avrei un'ultimissima domanda di carattere storico ma più lontana diciamo che va all'anniversario insomma a quel 1921 nascita del partito comunista alla quale si sono dedicati vari saggisti in questa fase perché però la domanda è più così insomma può andare bene anche una risposta telegrafica perché in realtà la prendo da è il taglio che ha scelto Francesco Cundari sul foglio per un pezzo proprio sul partito comunista cent'anni di tormenti e solitudine cosa resta perché lui dice ma come mai ancora oggi in tanti sentono l'esigenza di partecipare al dibattito intorno ai cento anni dalla nascita di un partito che non esiste più da trenta lo spettro del comunismo dice non c'è più però comunque affascina il dibattito secondo lei perché perché è stata una grande cosa il partito comunista perché è stato uno degli elementi essenziali del novecento perché era una comunità di persone molto belle perché aveva dentro di sé dei valori forti perché è giusto discutere delle scelte politiche che ha fatto anche di quelle sbagliate che ha fatto penso al 1956 penso a Stalin eccetera ma è stata una grande cosa è stata una grande cosa e penso che chiunque pensi di liquidarla attraverso appunto la semplificazione dell'identificazione del partito comunista con la storia del comunismo realizzato dei paesi dell'est sbagli il comunismo italiano è stata una cosa del tutto particolare si poteva essere conventamente nel partito comunista italiano pur non aderendo ideologicamente alla dittatura del proletariato si poteva stare nel partito comunista italiano e ci stava o votava per il partito comunista il 35% degli italiani sulla base delle aspirazioni morali della battaglia per i diritti delle battaglie sociali del contributo del partito del partito comunista aveva dato alla liberazione di questo paese quindi se se ne parla non bisogna lamentarsi meglio che si parli di qualcosa di grande piuttosto che delle tante piccolezze contenitrici di odio con le quali siamo costretti a vivere questo presente così affollato di inutilità grazie a Walter Veltroni linea Andrea Pancani per Coffee Break Omnibus torna domani con Frediano Finucci buona giornata a tutti a tutti